Salve amici, benvenuti o bentornati nel canale. Io sono David, se non mi conoscete sono un appassionato di droni e ho un canale YouTube che tratta proprio questo argomento. Beh, perché ho deciso di fare questo video? Perché è uscito un nuovo drone DJI e come ogni nuovo drone a me suscita molto interesse. Come sapete, se mi seguite, se non mi seguite ve lo dico, io avevo Air 3, ho deciso di venderlo perché avevo intenzione di prendermi la versione, quella aggiornata, quindi il 3S che è uscito proprio oggi. Prima, come al solito, vi chiedo un bel pollicione su, qua sotto, e se non siete iscritti vi aspetto. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Beh, pensavo di prenderlo, di acquistarlo materialmente perché nessuno mi finanzia, nessuno mi paga i droni, quindi ho venduto il vecchio per comprarmi il nuovo, ma perché non l'ho fatto alla fine? Non l'ho fatto perché c'è qualcosa che non digerivo. Le specifiche tecniche non mi facevano impazzire, neanche i prezzi. I prezzi che dovevano essere minori, inferiori, invece i prezzi sono stati aumentati rispetto alla versione 3 rispetto all'anno precedente. In questo video andrò a fare solo considerazioni personali. Io non voglio dirvi che Air 3S non è un drone valido perché non l'ho provato. Non voglio assolutamente parlare male di qualcosa che non ho provato, che non ho tra le mie mani, però sono considerazioni legittime. Sono considerazioni che chiunque conosce un po' l'andamento del mercato dei droni possa condividere. E perché no, quindi? Perché non farle? Cosa ha portato di nuovo questo nuovo Air 3S? Intanto vediamoci un po' di anteprima di presentazione di questo nuovo drone, che sostanzialmente è lo stesso Air 3 con una fotocamera anteriore più grande. E con un sensore, nella parte anteriore, un sensore leader. Dicevo cosa ha portato? Ha introdotto questo sensore leader per la prima volta su un drone DJI. Ha migliorato notevolmente il sistema di anti-collisione, così sembra. Quindi se fate un follow me, il drone vi segue e scansa meglio gli ostacoli rispetto a prima. E con questo sensore riesce a mappare bene l'ambiente circostante. Non sappiamo se è efficiente o non è efficiente. Se mapperà l'ambiente, compreso anche degli elementi più fini, come i cavi dell'illuminazione che ci sono sulle nostre strade. I video che abbiamo visti sono stati girati in ambientazioni particolari, magari all'estero. Non sappiamo bene come si comporta con le ramaglie, ad esempio. Comunque un sensore leader sicuramente avrà delle performance superiori. Ha dei nuovi sensori anti-collisione migliorati, in generale, che lavorano anche a bassissima luminosità. E quindi, diciamo, tutto l'aspetto legato alla sicurezza del drone, legato appunto ai sensori anti-collisione, è stato migliorato. Ma non solo, è stata migliorata anche la fotocamera. Una delle fotocamere, perché lui ne ha due. Ha un medio teleobiettivo da 70 mm, che ha una dimensione del sensore di 1 fratto 1,3 pollici, quindi inferiore al pollice. E questa è rimasta identica a quella precedente. Dicono che il sensore abbia cambiato tecnologia, quindi sia comunque capace di performance leggermente superiori. Comunque, le caratteristiche fisiche, diciamo, termini dimensionali, sono rimaste le stesse. Ha cambiato la fotocamera principale. Quella è la grande angolare, che in precedenza aveva le stesse dimensioni dell'altra, quindi 1 fratto 1,3 pollici, è stata ampliata a 1 pollice. Questo ce l'aspettavamo. Però, cosa che io non mi aspettavo, è che la risoluzione fosse rimasta la stessa. 4K erano e 4K sono rimasti. Dici, ma che te ne fai di un drone con una risoluzione maggiore? Ma, ragazzi, io avevo Air 2S, tre anni fa, avevo Air 2S che aveva 5,2K. E adesso, a distanza di un sacco di tempo, un drone che costa il doppio rispetto a Air 2S, ha un sensore simile come dimensione, ma ha una risoluzione sempre inferiore. Che senso ha? Perché non hanno messo una risoluzione maggiore al 4K? Lo fanno semplicemente per motivazione di marketing, perché se vuoi la risoluzione maggiore, ti devi prendere il Mavic 3, che uscirà tra poco. Sappiamo bene che DJI ormai è un treno in corsa, ha fatto uscire il Nio 20 giorni fa, adesso è uscita con Air 3S, e tra circa un mese, forse anche meno, uscirà con il Mavic 4. Quindi conviene aspettare, dico. Conviene aspettare anche perché i prezzi sono aumentati. Prestazioni, non siamo in grado di valutarle, fino a che non abbiamo il drone in mano, ma le prestazioni, le caratteristiche sulla carta sono poca roba, in più rispetto ad Air 3, e quindi ho deciso di aspettare. Oltre alle dimensioni del sensore maggiorate, ha anche migliorato l'efficienza a basse luminosità. Ha una gamma dinamica maggiore, quindi sia foto che video riesce a realizzare, diciamo, dei contenuti migliori. Il resto è rimasto uguale. Sostanzialmente il resto è rimasto tutto, tutto uguale. Dicono che, appunto, l'ActiveTrack è evoluto. Ha aggiunto delle funzionalità sulle foto smart che, sinceramente, non so quanto possa essere utile. Sicuramente avrà un Retort Home più preciso. Ha aumentato la memoria interna, è arrivato a 42 GB rispetto a 8 GB del modello precedente, ma mettendo l'Sd il problema dello spazio lo si risolve. Vi faccio vedere la dimensione del sensore della mia macchina fotografica, con la quale a volte registro i contenuti video, che è una full frame. Ecco qua la differenza del sensore. Guardate un po' tra AIR 3S e una Sony, ad esempio, la mia, che è una Alpha 7, e un sensore di un AIR 3S. Beh, queste sono le differenze fisiche. E le differenze fisiche tra il sensore precedente dell'AIR 3 e il sensore nuovo dell'AIR 3S sono queste qua. Valutatele voi. Merita investire 1.600 euro in un drone che ha quel qualcosina in più, quel pochino in più rispetto all'AIR 3? Secondo me... Beh, è chiaro, se non avete un drone siete costretti ormai a prendere quello nuovo. Insomma, ci penso. Ma se ho già un AIR 3, merita venderlo per comprarne uno che costa molto di più del precedente e mi dà veramente poco di più. Io mi chiedo, ma chi è il responsabile del marketing di DJI? Secondo me non è che abbia fatto tutto questo gran lavoro, anche da un punto di vista della strategia marketing, perché magari avrebbe potuto puntare un po' di più sulle differenze. Ma le differenze che ci sono state appunto annunciate prima dell'uscita sono queste e sono pochissime. Le differenze che io ho visto con i miei occhi, però prendetele solo come mie considerazioni personali, sono veramente poca roba. Ma le devo testare, quindi sicuramente vi so però dire meglio. Al momento ho deciso di pazientare e vedere un po' cosa succede, perché probabilmente uscirà anche un Mini 4, uscirà sicuramente il Mavic 4, e quindi non ho nessuno che mi finanzia. Beh, che dire, condividete la mia scelta, secondo voi ho fatto bene ad aspettare, avrei dovuto acquistare Air 3S, non dico che non sia un bel drone, io non lo dico, probabilmente sarà un ottimo drone. Tutti i prodotti DJI sono comunque prodotti buoni, se non ottimi come qualità. Fatemi sapere cosa ne pensate, condividete con me le mie considerazioni soprattutto. Beh, che dire, sicuramente farò qualche video anche con Air 3S, chissà che il mio amico Simone non me lo presti per farci un video, Simone, se mi stai ascoltando, magari ragazzi scrivete a Bigenet e chiedetegli appunto di prestarmi il drone per fare una recensione sul mio canale, perché so che aspettate anche le mie impressioni, me lo scrivete in tanti, volete sapere cosa ne penso riguardo ai droni, però a questo giro ragazzi mi dispiace scontentare qualcuno, ma ho deciso di attendere e non acquistare Air 3S. Nel frattempo, se volete supportarmi, come fare? Semplicissimo. Se mi volete supportare, beh ragazzi, come fare? È molto semplice, potete iscrivervi al canale oppure potete acquistare dai link che vi lascio qua sotto in descrizione. Metterò il link ai nuovi droni DJI ogni volta che farò una nuova prova, quindi li trovate nella descrizione del video. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo con nuovi video qui nel canale. Alla prossima, ciao! Prima, come al solito, vi chiedo un bel pollicione su qua sotto e se non siete iscritti vi aspetto. Iscrivetevi e attivate la campanellina.